Non proviamo, non lo vede, invitiamo il concerto al compagno e rapitante Fabrizio Corona. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Come a salto grazie a Chielos specialmente nella figura di Tocco che non solo fa il pari che esplode come chitarra e il panchetto come chiamati a Chielos come chiamati a Chielos e il panchetto e il panchetto come chiamati a Chielos Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.